Benvenuti a questo ultimo doppio appuntamento con i Thalassemia Talk. Come anticipato, oggi ci concentreremo sui progressi della ricerca scientifica e la nuova prospettiva che ci propongono le terapie innovative per la beta-thalassemia e l'anemia falciforme. Sarà dunque un pomeriggio denso di informazioni e testimonianze che ci porteranno a raccontare delle nuove frontiere della ricerca. Ma prima di iniziare, la nostra sigla. Rieccoci dunque. Dicevamo delle nuove terapie che si stanno sviluppando nell'ambito delle emoglobinopatie. Ma andiamo per ordine ed iniziamo con il primo appuntamento di oggi che ci permetterà di parlare di anemia falciforme, di quali sono le complicanze a cui vanno incontro le persone che ne sono affette, quali le terapie attuali e quali invece le terapie in via di sperimentazione. Come sapete, se desiderate, avete una domanda da voler proporre, potete farlo inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook o YouTube o un messaggio WhatsApp al numero 349 451 4293. Un nostro esperto vi risponderà nei prossimi giorni. Bene, passiamo adesso a presentare il nostro primo ospite con cui parleremo di anemia falciforme. Per farlo ci colleghiamo con Parma, dove vive e lavora Clementine Pacmoda, a cui do il benvenuto, ringraziandola per aver accettato il mio invito a partecipare. Ciao Clementine! Ciao! Buonasera a tutti! Ciao, eccoci, benvenuta. Allora Clementine, come ho appena detto, tu vivi e lavori a Parma, ma le tue origini, la tua storia, partono da lontano, dal Burkina Faso, per l'esattezza, dove hai vissuto per tanti anni e dove hai scoperto, so da adulta, di avere l'anemia falciforme. Per raccontare la tua storia complicata di bambina, hai scritto un libro dal titolo Wendy Amma, la volontà di Dio, spero di averlo pronunciato bene. Ci dici perché hai deciso di scrivere questo libro e quale era allora il tuo rapporto con i dolori che la malattia ti procurava? Allora, grazie per questa occasione che mi dai di poter parlare un po' di quello che ho scritto. Allora, praticamente io ho scritto il mio libro per presentarmi, perché sono nuova in Italia, diciamo, ormai sono italiana, però sono immigrata, per creare una maggiore conoscenza e farmi accettare, ho pensato che era meglio presentarmi, presentare il mio paese, la mia cultura e le mie esperienze personali che ho vissuto. E non si poteva parlare di me senza parlare della mia malattia. E Wendy Amma è il libro in cui ho parlato della mia infanzia. Sono nata, come hai detto già te, in Burkina Faso, diciamo, in Cosa d'Avorio, però cresciuta in Burkina Faso. Questa è una foto, appunto, del tuo paese. Questa è in Burkina Faso, esatto, dove per avere qualunque cosa bisogna sudarsela, tipo in questa foto andare a prendere l'acqua. E' un paese che non garantisce i diritti elementari per le sue condizioni economiche. Quindi non c'è il diritto allo studio e non c'è nemmeno il diritto, diciamo, a un'assicurazione sanitaria. E quindi io sono cresciuta in questo paese con una malattia invalidante, poco conosciuta, diciamo, diffusa, ma poco conosciuta, probabilmente per l'ignoranza che regna, dovuto al fatto che pochi sono quelli che hanno potuto istruirsi. Io, da bambina, avevo questi dolori molto forti che mi venivano ogni tanto, soprattutto quando facevo certi lavori fisici che mi stancavano, venivano queste crisi e dicevano che erano dei reumatismi, visto che si manifesta con dolori alle articolazioni. e io in queste condizioni ho voluto comunque studiare, a volte stando fuori dall'aula, per mancato pagamento della tassa scolastica, al freddo, al vento, per garantirmi una vita perché, per fortuna, sono stata una bambina che ha capito subito che in un paese come questo, per vivere e vivere bene bisogna armarsi di forza e di volontà. E ecco, è per questo che ho pensato potesse essere interessante scrivere in un libro, raccontare come siamo fortunati noi a essere qua, e come dei bambini finora stanno sudando abbastanza, nonostante siano malati, per potersi garantire un futuro. E quindi in queste condizioni, non avendo avuto le stesse partenze, non è giusto chiedere gli stessi arrivi. Ecco. Certo, quindi un'infanzia, quello che ci stai raccontando, è molto complicata, soprattutto per questi dolori e la malattia scambiati per banali reumatismi. Poi però, con la tua determinazione appunto, riesci a continuare gli studi, come ci hai raccontato, nel 2008 arrivi in Italia, proprio per completare il tuo percorso formativo e vai a Pisa. Esatto, è così? Ecco, per fortuna, nonostante questi alti e bassi in questo paese, la fame, la sette, la malattia e la volontà soprattutto di poter cambiare le cose, il corso della vita, sono riuscita ad arrivare fino alla maturità. È una lunghissima storia. E da là, diciamo, dopo la maturità, non è stato facile arrivare fino alla laurea. Sempre per il discorso anche della malattia, che chiedevano delle condizioni di vita che non mi potevo permettere, anche andare a studiare, almeno con un motorino che non avevo, nemmeno la bicicletta l'ho avuta così facilmente e dovevo camminare. E questo comportava veramente delle sofferenze fisiche abbastanza, a volte quasi insopportabile. Poi, comunque, sono riuscita ad arrivare alla laurea. La fortuna ha voluto che, per il mio impegno, quando è arrivata la notizia della possibilità di avere una borsa di studio alla normale di Pisa, il Dipartimento di Linguistica ha scelto me come persona indicata a poter provare a vincere una gara importante del genere. E poi l'ho vinta, l'ho vinta questa borsa di studio e mi sono ritrovata qua in Italia. Beh, complimenti per questo tuo percorso farmativo che appunto ti ha portato qui in Italia. Poi però nel 2009 torni in Burkina Faso per dei dati che servivano proprio alla tua tesi e finalmente, dopo l'ennesima crisi dolorosa, capiscono che non sono banali reumatismi. Ecco, cosa hai pensato a quel punto? Allora, la storia è abbastanza lunga perché quando sono arrivata qua ero in condizione di lavoro e di vita molto migliore, è completamente un cambio di grado, però avevo una borsa in convenzione con la mia università di origine e questo comportava dei vantaggi ma anche mi chiedeva di fare un anno anche lì per questi tre anni di studio dottorale. E allora ritorno a casa e per la raccolta dati, la trascrizione, la conservazione, eccetera, mi sono ritrovata a fare un lavoro molto pesante che mi chiedevano ore al giorno, seduto al computer, senza tante attività, diciamo, di movimenti così e allora da lì mi viene una crisi che avevo anche dimenticato perché con l'adolescenza per fortuna non mi venivano più queste crisi così frequentemente e pensavo anche che effettivamente forse erano cose di bambini che poi era passato. Poi mi viene questa crisi dolorosa alla gamba e al braccio destro però avendo ormai la possibilità di potermi garantire delle cure abbastanza accettabili perché avevo sempre la borsa di studio che mi raggiungeva lì in Burkina Passo e andai in una clinica rinomata in Burkina Passo subito per indagare. Avevamo pensato a un problema di nervi all'inizio e invece fanno un prelievo di sangue e mi dicono che sono adripanositica e mi spiegano e anche io lo sapevo la adripanositose ne abbiamo parlato quando eravamo alle medie eccetera quando hanno detto la adripanositose ho capito era una patologia genetica e quindi che non è mai stata gestita e che purtroppo ha avuto anche delle conseguenze negative su di me. All'inizio è stato ovviamente molto complicato l'impatto con questa diagnosi ricevuta poi però rientri in Italia in seguito ad un ricovero a Pisa appunto hai un incontro molto importante per la tua vita ci racconti quale e cosa è successo? Come si dice a volte non c'è mai nulla a 100% negativo diciamo che quando sono rientrata dalla Burkina Faso dopo aver scoperto che ero affetta da adripanositosi che avevo anche una retinopasia abbastanza avanzata e rischiavo anche di perdere la vista che poi sentivo pochissimo e non si sapeva qual era la causa quindi è venuto un po' il dubbio che sia anche legato alla adripanositosi quindi avevo già avuto delle complicanze senza neanche accorgermene e ritorno qua con il cambio del clima e la stanchezza dell'organizzazione del viaggio del rientro in Italia eccetera mi viene un'altra crisi quindi la seconda nel giro di un anno fu ricoverata all'ospedale Cisanello a Tisa dove conovì il mio marito che era un medico specializzato all'epoca in diabetologia sono stata ricoverata in diabetologia dove lavora lui perché abitavo con una sua collega quindi anche lei diabetologa e non sapendo dove ricoverarmi mi ha ricoverato dove lavorava per provare a indagare insieme agli altri medici dell'ospedale per sapere il da farsi per aiutarmi a guarire perché i dolori anche loro vedevano che erano veramente forti e così esco da questo ricovero di nove giorni con mio marito che mi accompagna a casa poi ci scambiamo il numero di telefoni e il destino ha fatto il resto bene, quindi appunto non tutto negativo in questo percorso anche doloroso che è attraversato c'è questa luce che si è accesa che ha poi anche portato a una bimba oggi avete una bimba che ha otto anni è così? sì, allora praticamente eccola, vediamo in foto eccola dopo il nostro matrimonio come si chiama la bimba? la bimba si chiama Eufrasia ah, che bell'ora Eufrasia che vuol dire gioia, allegria perché ecco è stata la nostra gioia però tornando indietro dopo il nostro matrimonio c'è stata una cosa comunque molto brutta, traumatica che io sono rimasta incinta di un maschietto prima di lei che è l'ignoranza sulla drepanositosi da parte dei medici in Italia non ha aiutato molto questa gravidanza e anche noi abbiamo commesso tanti errori tutto dovuto al fatto che la malattia è poco conosciuta non abbiamo ricevuto consigli come si doveva non siamo stati prudenti non abbiamo previsto niente anche se abbiamo ci siamo informati prima presso dei specialisti prima di sapere se potevamo provare una gravidanza o no e loro hanno detto no secondo noi non c'è niente perché effettivamente anche loro non sapendo veramente quali sono le implicazioni di questa patologia sanno un po' di informazioni così superficiali e allora io rimango incinta e là succede il fine mondo che ci ha portato a Verona e là che ho conosciuto la dottoressa Di Franceschi che mi hanno potuto dare una mano almeno per salvarmi la vita perché io in un certo momento avevo pensato non farcela c'è stato un momento in cui io anche per prendere un bicchier d'acqua da sola non è stato facile purtroppo hanno potuto salvare me però abbiamo perso il bambino quando stavamo anche arrivando verso il settimo mese di gravidanza quando non ce l'attestavamo proprio più è stato un drama molto doloroso che però poi posso dire che anche là è stata una cosa che mi ha fatto poter trovare la via giusta per poter avere una vita più o meno normale quindi un percorso appunto doloroso che poi ti ha comunque consentito di incontrare un reparto in cui finalmente vieni seguita per bene e la tua vita è proseguita appunto in questo sentiero con questa bimba splendida che abbiamo visto poco fa in video complimenti per questo tuo percorso e per questo sorriso con cui racconti il percorso e i video che hai fatto con momenti appunto molto molto dolorosi bene grazie Claventina appunto per questo racconto che ci hai fatto e nonostante appunto con questo sorriso le labbra nonostante appunto un percorso difficile come detto doloroso è una forza di volontà una forza d'animo che ti ha permesso di affrontare tutto so che hai diverse domande per il nostro ospite che stiamo per presentare però prima di procedere ricordo ancora che anche voi che ci seguite potete fare le domande tramite la chat facebook o youtube oppure tramite whatsapp ecco il numero per le vostre domande è il momento adesso di dare il benvenuto al referente scientifico che ci parlerà di anemia falciforme do quindi il benvenuto appunto alla professoressa lucia de franceschi dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di verona ospedale borgo roma benvenuta professoressa de francesca grazie anche a lei di aver accettato il mio invito a partecipare buonasera a tutti grazie sergio mangano per questa ottima iniziativa ottima su almeno due piani differenti per la disseminazione delle conoscenze sull'anemia falciforme e la trassemia presso i pazienti ma anche per dare voce a chi come Clementin ma anche come noi che ci occupiamo di queste patologie molto spesso non abbiamo il mio incontro con Clementin lo avete colto dalla sua storia è stato molto intenso e molto prezioso come l'incontro con tutti i pazienti e Clementin ha anche questa grande capacità di raccogliere le proprie esperienze e di trasformarle in storie da condividere e quindi questo credo che sia veramente importante bene grazie questo è proprio l'obiettivo con cui nascono questi talk quello di fare informazione e far conoscere i vari aspetti sia umani sia poi clinici ecco per passare agli aspetti clinici la prima domanda che desideravo farle è questa si può spiegare in sintesi cosa è la drepanocitosi certo ce l'ha fatto capire un po' Clementin prima si tratta di una malattia congenita in modo del tutto simile alla trassemia viene quindi ereditata da entrambi i genitori esistono varie forme legate a genotipi differenti possono essere legate alla coereditarietà dell'emoglobina S quindi le forme omozigoti la ereditarietà dell'S insieme al trait beta talassemico come è frequente soprattutto nell'area siciliana e nell'area della Calabria e quindi l'S beta ed è infine la forma che si complessa dell'emoglobina S con l'emoglobina C è una malattia come dicevo prima appunto congenita si manifesta precocemente entro i primi due anni di vita e per questo diventa molto importante poterla intercettare nei nuovi nati per poter iniziare il trattamento con la terapia antibiotica in profilassi lo screening per le complicanze cerebrali e il supporto trasfusionale laddove necessario naturalmente l'idrossiuria ecco professoressa avevi ancora un'altra domanda che è l'obiettivo di comprendere come si è evoluta la gestione delle complicanze negli ultimi 20-30 anni ecco cosa è cambiato in questo senso? è cambiato moltissimo sia l'approccio al paziente in età pediatrica facevo riferimento prima alla profilassia antibiotica allo screening per la patologia per le manifestazioni cerebrovascolari il piano vaccinale e questo ha consentito di abbattere la mortalità in età pediatrica ma l'avere imparato insieme ai pazienti e dai pazienti la storia naturale della malattia ci ha permesso anche di intercettare complicanze d'organo che possono compromettere ulteriormente la qualità di vita del paziente le complicanze che noi vogliamo intercettare precocemente sono le complicanze a carico dell'osso quindi la necrosi asettica per esempio delle teste del femore le complicanze renali come dicevo prima le complicanze cerebrali e naturalmente quelle polmonari questo consente di poter accompagnare il paziente che in un contesto europeo ha un'aspettanza di vita che varia diciamo in gradiente nel nord dell'Europa verso i 67 anni e che nella popolazione italiana da un recento lavoro fatto dalla SITE che è la società italiana per lo studio della terasemia e hemoglobinopatie pone una sopravvivenza media di 71 anni bene grazie professore Franceschi per questa prima ampia introduzione nonostante il poco tempo a disposizione a questo punto Clementin a te la parola per le tue domande alla professoressa eh sì come paziente ovviamente cogliamo sempre l'occasione per fare delle domande e avere un pochino più di informazioni per poter sapere un po' come gestire meglio la nostra patologia ma visto che stiamo parlando di nuove terapie eh volevo chiedere alla prof eh se possiamo noi oggi come oggi siamo sempre vivi e speriamo eh poter beneficiare di queste nuove terapie però volevamo sapere se a breve termine eh non possiamo dire che non andremo più in dei hospital per la transfusion di sangue perché da quello che ho capito sono terapie che puntano appunto a evitare questa dipendenza delle transfusioni del sangue sì allora il senz'altro lo scenario delle terapie sta cambiando è cambiato e sta cambiando l'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'accesso del paziente al day hospital perché significa l'assenza da scuola l'assenza dal lavoro e naturalmente il carico emotivo dell'accesso in ambiente ospedaliero che non è indifferente chiaramente l'arco di tempo che abbiamo avuto a disposizione è ancora corto per dire se possiamo effettivamente impattare questi aspetti però possiamo dire che accanto all'idrossiurea adesso abbiamo davanti al nostro orizzonte nuove molecole come il voxelitor come per esempio la decytabine che è in clinical trial come per esempio l'inibitore del complemento anch'esso in clinical trial e recentemente come sapete tutti il crizalizumab che in questo momento è sotto diciamo rivalutazione per quanto riguarda l'identificazione del profilo del paziente candidabile a questa terapia ok grazie però ho ancora una domanda allora volevo sapere se a oggi è possibile pensare somministrare queste nuove terapie ai pazienti affetti da talassemia dripanositose c'è già qualcosa di disponibile e sarà già diciamo possibile entrare in possesso di queste di queste nuove terapie e questi medicinali nuovi che sono appena nati allora la risposta è sì il crizalizumab è già disponibile perché l'AIFA l'ha approvato un anno fa per quanto riguarda Voxelitor è stato approvato da EMA che è l'agenzia europea del farmaco e in questo momento è in contrattazione da parte delle agenzie nazionali per il farmaco in Europa quindi la Francia l'Italia e naturalmente gli altri paesi europei per quanto riguarda invece le altre due molecole a cui facevo riferimento sono molecole all'interno disponibili all'interno degli studi clinici quindi solo nei centri che sono coinvolti in questi trial clinici l'orizzonte che noi ci poniamo è quello probabilmente di una terapia combinata che veda il paziente sempre in trattamento con l'oncocarbide l'idrossiure associato a uno di questi farmaci in modo dinamico proprio nel tentativo di cercare di raggiungere quell'obiettivo che è l'obiettivo della medicina di precisione quindi una medicina il più possibile personalizzata ho capito però al di fuori delle cure così con medicinali con transfusione eccetera mi dico che probabilmente si potrebbe anche pensare a uno stile di vita che riesca aiutarci a prevenire queste crisi e questi disagi legati a queste patologie quindi io volevo sapere se lei come specialista ci può consigliare dei comportamenti da adottare questi atteggiamenti da evitare e forse anche una dieta da seguire per dire che ci possa aiutare a stare meglio e aiutare anche questi medicinali la tua osservazione è molto importante nel senso che sicuramente dobbiamo evitare per esempio posizioni fisse e rigide tu hai fatto riferimento prima quando eri obbligata a stare seduta al computer senza poterti alzare questo deve essere lasciata la possibilità sia allo studente sia al lavoratore quindi la possibilità di fare delle piccole interruzioni per camminare andare avanti indietro o nella classe o raggiungere la toilette per poi risedersi la seconda cosa è coprirsi bene l'inverno per quanto riguarda il freddo ma anche considerare gli sbalzi termici tipicamente noi abbiamo i ragazzi adolescenti o giovani adulti che arrivano in piena estate perché si sono buttati in piscina per farsi il bagno e fuori era molto caldo l'altitudine ma anche situazioni di vita quotidiana come possono essere il tabagismo quindi il fumo il dover evitare è opportuno che venga evitato l'alcol in modo quotidiano ora l'aperitivo una volta a settimana lo si può fare ciò che non va bene è l'alcolico la bevanda alcolica fosse anche la birra quotidianamente e naturalmente un adeguato riposo considerando il corpo col proprio corpo come un bene che ci viene dato e che dobbiamo curare ed accompagnare nella nostra vita eh sì allora c'è anche su questo punto di vita voglio dire anche i datori di lavori ma non so come possiamo fare per farli capire un po' che i lavoratori come noi abbiamo un po' bisogno di un po' di pausa un po' di riposo un po' quindi praticamente anche lo Stato ci deve aiutare in questo senso qua sì e secondo me su due elementi è molto importante questo tipo di azioni che stiamo facendo oggi pomeriggio insieme grazie alla Fondazione Cutino ma anche la possibilità di poter arrivare alle istituzioni la tutela dello studente quindi l'insegnante che sa come gestire uno studente che ha una problematica di questo tipo e il lavoratore che va a essere tutelato eh attenzione i pazienti affetti da animi e falciforme appartengono veramente a tutto il mondo noi oggi vediamo la Clementine che viene da Burkina ma potrei parlare di pazienti che ho io che vengono da Catania pazienti che vengono da Palermo pazienti che vengono dall'Albania quindi pazienti che vengono dal Sud America quindi colori immensi come quelli che ci sono nel mondo e nella primavera e tutti questi colori hanno il diritto di potersi esprimere senza essere giudicati da dove vengono e il giudizio molte volte si interpone sull'azione di tutela del lavoratore o dello studente questo deve essere tolto dobbiamo togliere queste barriere però dirle ok perché se ne parliamo siamo anche in grado di poter trovare insieme una soluzione e sì parlare di questi argomenti serve anche a questo proprio a veicolare dei messaggi con la la speranza l'aspettativa che vengano anche ascoltati e prese delle adeguate diciamo così conseguenze bene direi che anche in questo pomeriggio grazie alla testimonianza e dalle domande e clementine e dalle risposte efficaci della professoressa De Franceschi siamo riusciti ad approfondire diversi aspetti importanti che riguardano l'anemia falciforme ringrazio per questo i nostri ospiti di oggi clementini Pacmoda complimenti per il tuo per la tua forza d'animo per il tuo sorriso con cui racconti tante cose e grazie anche alla professoressa De Franceschi per le risposte efficaci grazie a voi grazie a voi però se permettete dico un'ultima cosa poi concludo assolutamente sì 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 vai sì sì volevo far capire noi comunque sia quelli affetti da talastemia che quelli da drepanositosi ci sentiamo persone persone che devono vivere felici lo stesso noi non siamo soltanto la nostra malattia non siamo soltanto dei pazienti ma degli esseri umani e come tale noi vogliamo essere considerati esseri umani cittadini che devono poter partecipare nonostante questo handicap che abbiamo noi al progresso di questo paese e chiediamo a tutti quelli che ci possono dare una mano non chiediamo pietà no chiediamo che si includino e che prendino in considerazione questa nostra malattia che non è un ostacolo alla vita però è un freno a tante cose che fa che noi non possiamo essere come gli altri ma nel mondo è la diversità che va valorizzato ognuno vive a seconda di quello che può di come può vivere e ognuno agisce a seconda delle sue forze e le sue competenze e le sue esperienze non vogliamo essere giudicati ma vogliamo meritare tutto quello che gli altri hanno l'unica cosa che noi chiediamo ora è poter avere la possibilità di vivere una vita dignitosa più o meno normale come gli altri sapendo che abbiamo un pochino qualcosa di meno ma sapendo benissimo che possiamo essere felici lo stesso questa è una conclusione assolutamente fantastica il diritto ad essere felici e di vivere intanto essere considerati come persona come esseri umani e poi c'è tutto il resto e qualsiasi persona qualsiasi essere umano in qualsiasi latitudine del mondo ha il diritto di essere felice e di avere alcuni diritti fondamentali garantiti quindi grazie mille ancora Clementine per questa tua testimonianza anche appassionata e grazie ancora alla professoressa De Franceschi grazie grazie a voi grazie prof di niente a presto nel mio cuore a presto concludiamo dunque questo quarto talk per darvi subito appuntamento con l'ultimo talk sulle terapie geniche avanzate ma prima ringrazio i partner che ci sostengono grazie quindi ad Omar osservatorio malattie rare al TIF federazione internazionale per le talassemie alla UNITED federazione nazionale delle associazioni di talassemia trepanocitosi e anemia e dalla fondazione italiana Leonardo Gembrone ringrazio sentitamente anche i nostri sponsor Vertex e Agios non mi rimane che salutarvi ma continuate a seguirci a brevissimo sempre oggi alle 19 partiremo con il nostro ultimo appuntamento con i talassemia talk parleremo di terapie geniche avanzate tante novità ed una bellissima ulteriore testimonianza diretta da non perdere intanto grazie ancora per averci seguito e a tra pochissimo sempre qui sulla nostra pagina Facebook o canale YouTube vi aspetto grazie a tutti